Ciao a tutti quelli del gaming, bentornati sul mio canale e oggi riprendiamo la serie FC24 Ultimate Team Mi scuso se nel video precedente ho detto che riprendevo la serie di Minecraft ma sto avendo problemi con appunto i cd del PS4 che utilizzo nella 5 Quindi finchè non risolvo quel problema dovrò portare altri gameplay che ho portato sempre ai canali come per esempio FC24, Call of Duty e Star Wars Detto questo andiamo al video Bene, per prima cosa volevo dirvi che ho fatto un nuovo acquisto, ho preso Dybala con la carta qua 90 Che ho già trovato ed è buona E andiamo alla partita Si inizia la partita Attenzione a contro chi siamo Torforzicotto FC Funtridge Ho letto bene Mendy, Lucio, Cannavaro, Lirugi, Bellingham Emilio, Brutagain Contravegno No, buona squadra la sua ma anche la nostra non scherza Quindi diamoci dentro E portare a casa questa partita Che parata ha fatto ciocco alla mano di richiamo Sono schiacciato qua questi primi 3 minuti Adesso ripartiamo con Teo Hernandez Cavallo pazzo Teo Che sasciata che ha tirato, ha fatto una corsa di tutto il campo C'è uno scambio molto veloce Dybala Pulisic C'è un esperto mori Troppo sul portiere Deve non farlo ripartire A Bo Parigi Rallentato un po' Adesso dobbiamo fermarlo Che ho avuto Draghegno A Bo Parigi Adesso ripartiamo Adesso ripartiamo Menti in porta Difesa che può contare su Fabio Cannavaro Con Luzio al centro della difesa Federico Valverde Insieme a Belli Che per il cuore del centro campo E due attaccanti dai quali ci si aspettano gol E movimento del posto Occhio Visek A Visek Un muro Per Pulisic Ai Pulisic Copri bene Ostucic Fa piazza pulita Imposta Lukaku Lancia Dybala Attenzione Non male il tiro di Dybala Ha fatto un buon tiro Troppo però Non era una minaccia Pericolosissima Diciamo Andiamo ancora a Pulisic E ripartiamo Ah Lukaku Un po' brutta gestione della palla Ottimo disimpegno Ah il Pulisic Devo darla prima Astucic Attenzione Sinistro Sassata però Mendy C'è Riesce a tenerla Attenzione Brivido La stava regalando Ce n'è Parisi Che qua c'è Visek Ha fatto un gol Che gli abbiamo regalato In pratica Perché Parisi Non ha dato deciso Il contrasto Che andiamo Secondo giro Dobbiamo fare subito Il gol del pareggio E lo faremo Ah Vado a tirare subito Di prima Invece che Aspettare Stare attenti A questa ripartenza Che può essere Pericolosa Bravo Visek Ottimo tempismo Bravo Se ne parla per Lukaku Vedi Di Vala Che se ne va Attenzione Tocco di suola Se c'entra Torna indietro Se ne va Che girata ha fatto Di Vala Ha fatto una parata Stretitosa Nel D Anche arriva il gol Prendiamolo Che si è fermato E Fulisit Segna Così abbiamo pareggiato Ve l'ho detto Cosa del pareggio Arrivava subito Si era scaricato Il joystick Con il controller Mentre Era lì Che si è fermato Lost 2 chip Ok Ho dato vantaggio Adesso per la palla Su punizione Giusto così C'è un adli Drivido Ottimo tiro a giro Non male Però dobbiamo essere Kicinci sotto porta Andiamo col pressing alto Così sbaglia Attenzione di Vibala Ah brutta Doveva darla O tirare E tu contro tu mori E tu contro tu mori Tutta la distanza Perciò Sicuro Ok In vantaggio Parisi Interviene Interviene La sponda Ottimo per Pulisic Che manda No Visec Palla No Ho premuto Dopo Il peserchio Subite Quindi l'ho spazzata Via Pensava Corceva l'1 2 Invece Se è andato Corciamo 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 Ok Un'intervento Di Tomori Finito il primo tempo Non male Azioni di qua Con una squadra E con l'altra Starcourt City FG Food Rage 1-1 Direi di fare un cambio E mettere a posto il GU Mettere Two Ram E dopo vedremo Che cambi Posso dire Lì Renders Per dare più freschezza Come sempre Dare più ordine A vita campo Mondo tempo Ottimo Renders Entrato già in partita Perde la palla Però Solita sterzata Sartente Ultraghegno Occhio Se ne va Bravo Bissec La parata di Occioa Spon dei Turam per Loftucic Sotturamo ancora Rado a tenerla lì Occioa C'è Parigi non riesce a Parigi non riesce a Vitar l'angolo C'è che non prende il gol Bravo Occioa Attenzione Se ne va Di Bala Non contro uno Di Bala se ne va Se ne va Di Bala Attenzione Prendo ciò Finta Fatta una azione strepitosa Con Di Bala Ma Si è riusciti a Concretizzare Bravo Fuori gli scopri Alla dalle in mezzo Che riparto Sempre con Izzaru Tutraghegno Che salvata Gernandez La diagonale Da terzino Proprio Fri gioco Ok C'era Draghegno Bravo Parigi Di cattiveria E' stato più veloce Con Di Bala E' stato fortunato Il rimpallo Prato Vario Andiamo con Rendersi Partiamo Pulisic Doppio passo Classico Fa l'apertura Lukaku di prima C'è Mendy Ancora Di Bala Stava Spoderando Un gol Ma Mendy Si è superato Con una super parata Cazzo Attenzione Ripartono Loro Parisi Vissac Recupera Ottimo Recupero Di Vissac Riesce A tenerla In campo Ok Dobbiamo gestire Di più La palla Ok Otteniamo così Che non stiamo andando male Ci manca solo Il gol del vantaggio Parti Teo Hernandez Attenzione Triangolo Pulisic Teo E' Loftucic Palla per Renders Sud Per Di Bala E Di Bala Segna Con il suo sinistro Potentissimo E che azione E adesso direi Di fare i cambi Subito Questo che mi ha segnato Di mettere a posto Sondiccio Tra Alland E Okafor Ma direi Di mettere più Okafor Per dare velocità A posto di Pulisic Mettiamo Costi C'è al posto di Loftucic Frattesi Per dare freschezza A metà campo Muscoli E tecnica Si sta capendo niente Costi C'è appena entrata Lo parte Con la sua velocità Abbruttà Dove andare con Costi Se basta Non devo stargli A passarla Con il draghegno Se n'è andato Tomori Una sentenza Azione Pernando Il triangolo Ancora Con Turan Parla per Okafor Fa la sponda Per Parisi Di Bala Trova il sinistro Vede Non so Un cinico Siamo all'ottantesimo Manca 10 minuti Cerca di portare a casa Questa vittoria Sono tre punti fondamentali Attenzione Reinders Vede Okafor Partito Okafor Il destro Mindy Spodera una parata ancora C'è ripartire Tivernandez Subito Triangolo Costi Turanteo E' mostrata questo calcio D'angolo E' segnare immediatamente Costi Di fisico Cross in mezzo Attenzione Parigi C'era Mindy E Turan Ottimo recupero Mindy In questa partita Sta parlando di tutto Sta parlando di impossibile C'era Missaccarin Tra il fuorigioco Stare attenti alle ripartenze Bravo Parigi Ferma una ripartenza Pericolosissima Attenzione Turan E abbiamo vinto la partita Per 2-1 Starforce City Su Svegliage 2-1 E' ora direi di godersi Le azioni salenti Della partita Andiamo Abbiamo La parata di Mindy Sul tiro di Turan Verso la fine Qua vede sempre L'ultima azione Della partita Qua abbiamo la parata Di richiamo Di Ochoa Su Eto Qua abbiamo Il gol Di Vudraghegno Meno sbagliato E' passato Con un numero Di alta classe Qua abbiamo Il gol Di Pulisic Del pareggio Tra le partite Di Pulisic Qua abbiamo Il gol Spettacolare Di Di Vala Che poi ci porta In vantaggio Una sassata Bene Direi di finire Qui il video Bene Siamo arrivati Alla fine del video Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale E attivando la campanella Per rimanere sempre Aggiornati Quando guardano i video Aggiornamenti sul canale E molto altro Commentate e condividete Il video E se volete Abbonatevi al canale Premendo questo pulsante blu Che trovate Nella scheda principale Del canale Ci vediamo Alla prossima avventura Ciao guerrieri del gaming Ciao